Siamo molto felici di dare il benvenuto in azione ad Alessio D'Amato, è stato uno dei più, anzi il migliore nella gestione regionale del Covid, della vaccinazione, è una persona che abbiamo sostenuto come candidato alla Regione Lazio, una persona di assoluto valore dal punto di vista di capacità amministrativa, è un riformista pragmatico e sono molto felice anche perché azione si conferma il luogo dove le persone parlano di come risolvere i problemi, non parlano di fascismo, comunismo, destra, sinistra, ma si ispirano ai valori della Costituzione, hanno particolare attenzione all'istruzione, alla sanità, al lavoro dignitoso, alla produzione e lavorano sul come far avvenire le cose, perché l'Italia è stata distrutta da questo bipolarismo che va chiuso una volta e per sempre, quindi questo è il nostro lavoro, è il lavoro dei prossimi mesi e dei prossimi anni di azione, siamo contenti che oggi lo possiamo fare anche con una persona che ha tutta la nostra stima politica e personale.